Esattamente un anno fa, il 24 ottobre, partiva la sperimentazione delle eco-isole intelligenti in centro storico. Sei postazioni di cassonetti automatizzati che hanno permesso a buona parte del centro di accantonare il porta-porta e le annesse problematiche relative al decoro urbano in orario serale. Con le eco-isole invece è stato possibile conferire rifiuti nei cinque contenitori differenziati utilizzando una tessera magnetica assegnata solo agli intestatari di utenze etari nelle vie oggetto della sperimentazione. Le utenze attive sono un migliaio con 716 tessere consegnate fra uso domestico e non domestico. Oggi, ad un anno dalla sperimentazione, Marche Multiservizi annota un bilancio quanto mai soddisfacente con 170.000 conferimenti registrati in 12 mesi per una media di 465 al giorno e circa 19 ogni ora. La novità ha soddisfatto le utenze interessate svincolatesi da orari obbligati per il conferimento dei rifiuti e ha portato diversi altri residenti del centro a chiedere l'estensione delle eco-isole oltre le sei già in funzione su Via Del Moro, Via Giordano Bruno, Via Spada, Via Morselli, Via Borgomozzo e Via Nobili. Marche Multiservizi si è detta pronta ad un nuovo investimento di concerto con il Comune per estendere questo modello di raccolta che verrà prima presentato a cittadini e operatori interessati contribuendo a migliorare il decoro urbano della città in vista della capitale della cultura.